Ehi, ciao ragazzi, io sono Fybert e vi ho avuto questo nuovissimo video. Oggi siamo ritornati su Clash Royale perché, come penso sapete, è uscita la pirotecnica. Quella è evoluta, ovviamente. Prima la vorrei provare nel 2.6, 2.9 però diventa. Vabbè. Però prima di incominciare, ovviamente, abbiamo la cassetta e vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di non fare più niente. Inserite subito. La vorrei fare una con il 2.6 e un'altra con il 2.9. E andiamo. Spiritello. Mettete subito la pirotecnica. Sì, ciclo. La pirotecnica è l'opì. Ecco, già, è subito. Perfetto. Lo spiritello non so perché non gli ha aiutato la torre centrale. Ripartiamo? Sì, però questo cosa lo hanno tutti, però. Nelle sfide hanno il gran cavaliere. Realmente abbiamo la carta evoluta. Penso che ormai l'avete provata tutti, anche perché queste sfide sono proprio all'ultima ora. Ok, la torre, peccato che non è a livello 15, come l'ultimo video. Però vabbè. Questa sfera è invocata a 100-100. Non prendiamo il monaco, sennò mi restituisce la cosetta. Credo di prendere la torre lì. Attenzione che qua mi ha fatto un bel push. Forse ci rimetto la torre, però fa nulla. Andiamo ad attaccare subito l'altra. A c'è il pirotecnico, forse ho sbagliato di nuovo, perché lui se mi tira la fireball me la killa di nuovo. E però, e però, e però, e ma ho sbagliato la fireball. Gelo, vero? Ma no, no, non mi tira un altro, ok? E però c'è la strega sotto target. E ho perso, forse. Devo mettere il 2.8, però prima devo andare a cercare che non mi ricordo com'è. Ok, deck creato. Andiamo. Domatore, spiritello. E però se le frecce è un po' tronco per ciclare. Valchiria, dietro. Io andrò dall'altra parte, perché sto coso poi mi rallenta. Andiamo a questo qua. Valchiria. Strega notturna. Io vorrei buttarla, ma sto qua mi tirò qualche fireball, me la killa subito. Non la sto provando proprio a questa cosa. Però devo buttarla, perché non so che buttarla. Ecco. Terremo, ma no, non mi ha fatto irritare il pecca. Eh, io non so dove passare. Questo qua ha le frecce per quella normale e io non so più che fare. Eh, buai. Questa non me l'aspettavo. Era meglio che non me l'aspettavo, perché qua... Eh, c'è una strage lì. Non so che sta succedendo. Ma no, ho perso. Vabbè, tra l'altro che nella partita di prima ho perso in un minuto, però in un secondo, anzi. Scheletrino. Pirotecnico non so perché l'ho messo di là. Giuro. Eh, ma io non... Tesla. Non so che metto. Almeno forse non ha le frecce. Eh, vabbè, certo. Fireball. Quella normale. Eh, sì, vabbè, certo. Tronco. Tutte le carte per distruggermi la pirotecnica. Non so quale sarà la prossima carta evoluta. Vediamo se... Ve la porto anche quella. Vediamo quanto è assoluto, insomma. Ma dopo quando corre questo, oh. Sì, certo. E non ho il tronco. Domatore. Comunque il Gran Cavaliere... Lo hanno tutti. Torni. Eh, ma quanto godo che non mi ha killato la cosettina là, oh. Aspetta, è sotto che parte una ripartenza improvvisa da là. Attenzione a quella là. Ok. No, eh. Ha pure la specchio, questo. Dai, 3D video, vado. Vabbè ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così stato, iscrivetevi al canale. E quindi, ci vediamo in un prossimo video.